È stata un'emozione indescrivibile e un grande onore poter incontrare Papa Francesco. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, insieme alla moglie Lucia, ha fatto visita al Pontefice in Vaticano durante l'udienza del mercoledì. L'annuncio sui social network con le foto dell'incontro in cui si vede il primo cittadino padovano particolarmente emozionato. Il suo carisma unico, soprattutto in tempi così difficili, è fonte di riflessione per ogni comunità, per un futuro di pace, solidarietà e rispetto del creato, ha scritto Giordani. Il sindaco ha portato in dono al Santo Padre un libro sulla Cappella degli Scrovegni, un simbolo della città che unisce religiosità, bellezza e arte. La visita è stata anche occasione per rinnovare l'invito a Francesco di venire a Padova, una città che il Papa avrebbe dovuto visitare nel 2020 in occasione della festa del Santo e nell'anno in cui era capitale del volontariato. Ma la pandemia ha stravolto tutti i piani. Il Pontefice, molto legato a Sant'Antonio, ha più volte espresso il desiderio di recarsi a pregare in Basilica e visitare anche i detenuti del carcere due palazzi di cui è cappellano Don Marco Pozza, sacerdote suo grande amico. Tutta la nostra città spera di riabbracciarlo, questo è il messaggio che ho portato al Papa, ha concluso Sergio Giordani. Grazie.